Sta lavorando con intensità, con solita maestria, ovviamente diciamo che la storia e la qualità professionale non gli manca, la sintesi la deve tirare fuori lui, l'auspicio è che lui faccia un governo robusto perché è chiaro che il 2014 non può essere impiegato in scaramucce continui e come abbiamo potuto e dovuto assistere ai me nell'arco di queste ultime settimane.